Palla Andrea Ioan di Città di Castello, il sabato sera non è solo Juve Inter ma è anche il derby di Serie D del gruppo sportivo Palla Volo Città di Castella. L'emozione mi tradisce perché con Mario Leandri dobbiamo parlare di Gerardà, Ciabatta e Gerardina. 3 a 1 e nulla di rubato. E' nulla di rubato ma ce l'hanno fatta sudare, due sette ai vantaggi e poi dopo è andata bene ma i ragazzi vedo che hanno lavorato parecchio perché hanno difeso l'impossibile, sono stati bravi. Noi ce la siamo cavata alla vecchia maniera col pallonetto e la pallaccia sporca. Diciamo che di pallavolo si vince e si gioca anche in questo modo, comunque giustamente hai detto i giovani stanno crescendo e stanno crescendo bene e voi vi divertite impegnandovi e non poco. Il nostro è un gruppo goliardico, io non sono allenatore ma l'animatore di questo gruppo e cerchiamo di divertirci. E appena ha terminato il derby, oramai l'abbiamo abitualmente denominata ma non noi la Gerardaccia, batte i giovani della Gerardina 3 a 1 però è stata lotta sino alla fine. Marco Panizzi. Beh è stata una partita abbastanza intensa per noi vecchietti, i ragazzi giovani sono una bella squadrettina, difendono bene però l'esperienza ha voluto dire molto in queste partite. Diceva il vostro allenatore che i giovani stanno comunque crescendo bene e che voi al di là del divertimento ci mettete comunque tanto, tanto impegno. Molto impegno e anche qualche sacrificio perché abbiamo tutti famiglia e quindi andare agli allenamenti la sera rimane sempre un po' complicato però la voia per giocare a pallavolo è sempre tanta quindi riusciamo a sopperire a queste difficoltà. Il martedì e il giovedì sera sino a tardanotte potremmo dire vi allenate e poi il sabato o la domenica comunque nel fine settimana una partita. Per voi veramente un impegno importante che tiene alto ancora i colori di Città di Castello. Sì, come ho detto gli allenamenti sono due, riusciamo in qualche modo a tenere alto e soprattutto c'è tanta voglia di pallavolo. Noi in palestra addirittura siamo in 18 qualche volta quindi capisce bene che la voglia di pallavolo è tanta e noi siamo molto contenti di far parte di questo gruppo. Nella penombra del dopo partita, dato che il custode ha regolarmente già abbassato le luci del palandraion, diciamo che calano le ombre su una sconfitta, lo dico a Francesco Moretti, allenatore della Serie D, dei più giovani nel derby. Una sconfitta, beh c'è stata battaglia, c'è stato combattimento, poi forse l'esperienza Francesco. Sì, l'esperienza, ho tolto i primi due set che la partita è stata combattuta dall'una e dall'altra parte e in cui l'ingenuità dei nostri giovani ancora una volta hanno fatto la differenza però per loro, per i nostri avversari. Poi dopo il terzo quarto set, niente, non siamo riusciti in quello che sentivamo di poter cambiare l'andamento della partita, anche se i primi due set erano stati giocati abbastanza bene. Ma loro, la loro esperienza ancora una volta ha fatto la differenza contro la nostra ingenuità su aspetti didattici. Mario Leandri, coach della squadra dei più grandi, ha detto comunque che ha visto i giovani crescere e crescere anche bene. Ci vuole sicuramente del tempo, c'è materiale Francesco? Allora, materiale c'è e soprattutto quello che noi vogliamo è che i 12-13 siano determinati su quello che fanno. Ognuno per il suo ruolo e sì, il materiale c'è però ci vuole un aspetto che è mentale, che deve aiutare il talento che magari qualcuno ha. E molte volte si scorda che il talento da solo non può andare da nessuna parte. E stasera qualcuno purtroppo ha fatto questo errore. Grazie. 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 Grazie.